Passiamo ora alla mozione 240, valutazione dei provvedimenti sulle attività di stoccaggio e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio lombardo a seguito della pubblicazione del rapporto della Commissione Ichese. Primo firmatario il consigliere Fiasconaro, pregone a facoltà. Grazie Presidente. Allora parliamo di attività di sfruttamento di idrocarburi e parliamo in particolare quindi di stoccaggio, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, coltivazione che potremmo semplificare con il termine di estrazione. In Lombardia secondo i dati dell'Ufficio Minerario Nazionale, aggiornati al 31 maggio del 2014, sono vigenti 14 permessi di ricerca idrocarburi in terraferma, 17 concessioni di coltivazione idrocarburi, sempre in terraferma ovviamente, 9 istanze di permesso di ricerca idrocarburi e 6 concessioni di stoccaggio di gas naturale. Aggiungo 0 istanze di concessione di coltivazione e oltre a questi sono presenti anche due progetti di ampliamento di due metanodotti che passano per la pianura padana e in Regione Lombardia. Il territorio lombardo storicamente è stato interessato da vari sismi, anche di magnitudo importante. Storicamente si ricordano i terremoti di Salò del 1901 e il più recente del 2004 e il sisma di Caviaga del 15 maggio del 1951 che tra l'altro pare essere stato indotto da operazioni di estrazione di metano. Secondo i dati dell'INGV, quindi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono presenti in pianura padana e attraversano gran parte del territorio della Regione Lombardia, sorgenti sismogeniche attive, cioè sorgenti che ripeto attraversano parte del territorio della Regione Lombardia che sono in grado di generare lungo tutta la loro estensione sismi di magnitudo elevato. In particolare per le sorgenti sismogeniche attive in Regione Lombardia si parla di magnitudo massima che varia tra i 5 e 6 gradi della scala Richter. La presenza di queste sorgenti sismogeniche attive viene anche esplicitata dallo stesso assessore in una recente delibera, la 1568, in cui proprio si parla di sorgenti sismogeniche importanti individuate dall'INGV che interessano in particolare gli impianti di stoccaggio lombardi e in particolare in provincia di Cremona, ma io aggiungo non solo, nella quale è presente la gran parte dei volumi di stoccaggio autorizzati. Tutti sappiamo che nel 2012, a maggio del 2012, dei gravi eventi sismici hanno interessato la Regione Emilia-Romagna e anche Regione Lombardia e in particolare l'area del Mantovano. A seguito degli eventi sismici del maggio del 2012, la Regione Emilia-Romagna e il commissario per il sisma Errani, nonché presidente della Regione Emilia-Romagna, hanno incaricato una commissione scientifica internazionale di esperti che valutasse le eventuali correlazioni fra attività sismica e quindi gli eventi sismici del maggio del 2012 e attività di sfruttamento di idrocarburi, quindi iniezione e estrazione di liquidi del sottosuolo e valutasse eventuali correlazioni. Questa commissione doveva pronunciarsi con un rapporto e il pronunciamento di questa commissione, oltre che essere interessante per chi ha commissionato lo studio, quindi la Regione Emilia-Romagna, era sicuramente di interesse anche per Regione Lombardia, cosa che viene tra l'altro esplicitata nella delibera che ho citato prima, la 1568, dallo stesso assessore Terzi, la quale dichiara, scrive nella delibera, che le conclusioni dello studio di questa commissione saranno sicuramente di interesse anche per Regione Lombardia. La commissione di esperti, cosiddetta commissionichese, ha concluso i lavori nel maggio del 2013 e il rapporto scientifico lo ha commissionato nel febbraio del 2014 e qui mi soffermerai sulle date perché sono importanti. Quindi nel febbraio del 2014 la commissionichese ha licenziato il rapporto. Il rapporto però è stato reso noto solo nel maggio del 2014, anzi nell'aprile del 2014, a metà aprile del 2014, a seguito del fatto che alcune agenzie di stampa hanno rivelato che questo rapporto era da febbraio del 2014 giacente nei cassetti del commissario Errani. risulta quindi, e questo è il primo punto della richiesta della mozione, risulta quindi che Regione Lombardia sia venuta a conoscenza degli esiti di questo studio, di questo rapporto, solo quando il rapporto è stato rivelato dalle agenzie di stampa perché nel marzo del 2014 l'assessore Terzi, sempre nella delibera 1568, scrive appare necessario attendere il pronunciamento autorevole della commissione tecnico-scientifica, da cui si deduce che a marzo 2014 l'assessore Terzi non era a conoscenza che il pronunciamento della commissione tecnica era già stato licenziato nel febbraio 2014. Quindi con il primo punto della mozione si chiede di chiarire ufficialmente i modi e i tempi con cui Regione Lombardia è venuta a conoscenza di questo rapporto che, ripeto, per due mesi è rimasto fermo nei cassetti della Regione Emilia-Romagna. Questo rapporto, gli esperti nel redigere il rapporto hanno considerato un'area in Emilia-Romagna in cui sono presenti concessioni di sfruttamento per idrocarburi, quindi estrazione sostanzialmente, un campo geotermico e un giacimento di stoccaggio di gas. Quindi hanno avuto una panoramica della situazione, hanno preso in considerazione tutte le attività di sfruttamento di idrocarburi. Nel rapporto, la commissione, nelle conclusioni di questo rapporto, si legge che non può essere escluso che le azioni combinate di estrazioni e iniezioni di fluidi in una Regione tettonicamente attiva possano aver contribuito, aggiungendo un piccolissimo carico, all'attivazione di un sistema di faglie. Inoltre si legge anche che non è possibile escludere, ma neanche provare, che le azioni inerenti allo sfruttamento del sottosuolo, in atto in prossimità dell'area colpita dalla sequenza sismica del 2012, possano aver contribuito ad innescare l'attività sismica. Quindi non si esclude, ma neanche si prova, però non si esclude. La commissione inchese formula, sempre nel rapporto, una serie di raccomandazioni, in cui si parla di tutta una serie di azioni che si dovrebbero mettere in atto per rendere più sicure, adesso semplificando al massimo la questione, per rendere più sicuri questo tipo di attività. Si parla per esempio di reti di monitoraggio ad alta tecnologia, volte a monitorare tre aspetti fondamentali, l'attività microsismica, le deformazioni del suolo e la pressione di poro. Si parla di monitoraggio sismico delle zone circostanti, gli stoccaggi, ma anche le aree che vengono trivellate. A seguito di queste raccomandazioni e per elaborare delle linee guida che prendano spunto da queste raccomandazioni, è un gruppo di lavoro al Ministero, formato da esperti, da tecnici, che ha proprio lo scopo di elaborare delle linee guida sulla base di queste raccomandazioni. Anche Regione Emilia Romagna, da quello che risulta, partecipa a questo gruppo di lavoro. Regione Lombardia, nella delibera, che cito di nuovo, la 1568, ha deliberato che in applicazione del principio generale di precauzione ha ritenuto di sospendere la concessione di due sovrappressioni per lo stoccaggio, in particolare Serniano e Ripalta, in provincia di Cremona. Le ha sospese attendendo il pronunciamento della Commissione Ichese. Quindi con la mozione chiediamo, al primo punto di chiarire i modi e i tempi con cui Regione Lombardia è venuta a conoscenza del rapporto della Commissione Ichese. Al secondo punto di partecipare a questo gruppo di lavoro che sta elaborando le linee guida sulla base delle raccomandazioni del rapporto della Commissione Ichese. Al terzo punto chiediamo di attivarsi, in ragione del principio generale di precauzione e alla luce delle raccomandazioni, delle conclusioni del rapporto della Commissione Ichese, ad attivarsi per sospendere, ad attivarsi presso il Ministero, per sospendere le attività di stoccaggio, ma non solo, anche di ricerca e di coltivazione di idrocarburi. Ovviamente le attività in fase di realizzazione, autorizzazione e tutte le nuove istanze. Invece per, e questa è la richiesta del quarto punto, per le attività di sfruttamento di idrocarburi che già sono attive e già sono presenti sul territorio lombardo, che ovviamente non si possono sospendere, per questo chiediamo, oltre a tutti gli adempimenti normativi ai quali si devono attenere, e che purtroppo non sempre così è, che vengano applicate per questo tipo di attività, quindi per quelle già autorizzate e già attive, le raccomandazioni contenute nel rapporto. In particolare, per esempio, ma non solo, che venga istituita questa rete di monitoraggio microsismico, facendo uno studio anche, e questo lo aggiungo io, per capire se ARPA è in grado, ha le competenze e le capacità tecniche per istituire questa rete che dovrebbe comprendere tutti gli stoccaggi e tutte le ricerche di idrocarburi sul territorio lombardo. Grazie. Grazie consigliere, ha chiesto la parola la consigliera Magoni, pregone a facoltà. Grazie Presidente. La Lombardia è stata storicamente considerata come un territorio relativamente sicuro dai terremoti. Dopo il dramma del 2002, che colpì la scuola di San Giuliano di Puglia, è stata aggiornata la normativa antisismica e si è puntato su un approccio probabilistico, mentre prima ci si basava sulla serie storiche. Ciò ha fatto sì che in alcune zone lombarde venissero prescritte delle modalità costruttive, tali da resistere ai terremoti previsti. La definizione stessa di rischio ci suggerisce dove si può intervenire. È infatti il prodotto tra il pericolo, ossia la probabilità che un evento accada, la vulnerabilità, ad esempio la fragilità di un edificio e il valore esposto, ad esempio la funzione dell'edificio. Il valore esposto è più alto per un ospedale che per un fienile. Con il nostro intervento intendiamo ridurre il rischio derivante dei sismi, intervenendo sia sulla pericolosità sia sulla vulnerabilità. Fatta questa premessa, ecco le nostre considerazioni riguardo al dispositivo della mozione. Data la tipologia delle richieste, appare più appropriato riformulare dispositivo con un invito alla Giunta, al posto che impegna la Giunta. L'impegno alla partecipazione al gruppo di lavoro presso il Ministero dello Sviluppo Economico appare utile, in quanto permette alla Lombardia di rimarcare la propria importanza e peso politico, così come partecipare nella stesura di decisioni che avranno probabilmente una valenza nazionale. Per quanto riguarda il terzo punto, segnaliamo che nella seduta del Consiglio regionale del 29.4 l'assessore Terzi ha informato i consiglieri che, in attesa del parere della Commissione del rapporto con delibera di Giunta, sono già state sospese le procedure autorizzative. Quindi il punto 3 appare superato dalla delibera di Giunta e risulta quindi essere ripetitivo. Potrebbe essere emendato a confermare la sospensione delle procedure in attesa della redazione delle linee guida dal gruppo di lavoro istituto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in modo da rimarcare la decisione della Giunta e fornirne un ulteriore sostegno politico da parte del Consiglio. Infine, l'impegno ad applicare immediatamente a tutte le attività le raccomandazioni del rapporto ichese è molto forte. Non è certo che a livello giuridico sia possibile imporre a posteriori delle prescrizioni restrittive. Appare più consono una riformulazione del tipo. A fare in modo che vengano, ove possibile, rapidamente applicate le linee guida della Commissione ichese alle attività di sfruttamento. Grazie. Grazie, consigliera Magoni. Le proposte di modifica della consigliera Magoni sono state proiettate, sono visibili per i consiglieri. Ha chiesto la parola il consigliere Lena. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Questa è una mozione che è un tema particolarmente delicato, perché la correlazione fra l'attività di origine antropica che interessa il sottosuolo e i fenomeni sismici è un'ipotesi che è presa in considerazione da più parti. Noi in Lombardia, come è stato ricordato dal relatore, abbiamo una parte della nostra regione a rischio sismicità moderata, e qui mi riferisco a Bergamo, Brescia, l'area del Garda e, come dimostrato dal sisma del maggio-giugno del 2012, anche nella parte sud, nella parte meridionale della regione. La comunità scientifica internazionale tratta questo tema. Ci sono diversi studi che sono stati pubblicati, ricerche finalizzate a stabilire se le attività di stoccaggio sotterraneo del gas possano interagire con gli equilibri del sottosuolo e che possa essere questo un fatto scatenante di terremoto. Però è doveroso precidare che non esiste una posizione univica sul tema, perché esperti sembrano concordi nel stabilire che c'è l'impossibilità di escludere o di provare che queste attività siano correlate con i movimenti tellurici. E questo è confermato anche dal rapporto della Commissione Ichese, anche perché le oggettive difficoltà di poter stabilire che ci siano queste difficoltà, appunto, siano da definire come caratteristiche aleatorie del fenomeno sismico. Il rapporto della Commissione Ichese, che introduce, evidenzia delle raccomandazioni che sono in una fase post-ricerca, evidenzia che è necessario favorire lo sviluppo delle conoscenze attraverso l'acquisizione di dati dettagliati, collaborando quindi con gli operatori del settore, dove poi bisogna produrre dagli studi teorici che provano la realizzazione di nuovi impianti e anche finalizzati alla modellizzazione delle faglie attive. E poi le operazioni di monitoraggio per rilevare appunto questa correlazione che abbiamo già più volte citato delle attività antropiche e degli eventi sismici. Queste sono tutte raccomandazioni che devono essere, dal mio punto di vista, trovare una giusta considerazione da chi è nell'ambito dei procedimenti autorizzativi. Però, c'è un però, però deve, pur condividendo i principi e le motivazioni che hanno portato alla stesura di questa mozione, io credo che sia, credo, una sospensione generalizzata sia sostanzialmente ingiustificata. Anche perché è opportuno focalizzare l'attenzione sullo stoccaggio, che è quella parte che resta maggiori preoccupazioni nella popolazione e soprattutto se condotto in sovrappressione. Il nostro voto sarà favorevole a questa mozione se sarà subordinato alla modifica del punto 3, ovvero del dispositivo, ovvero verrà stracciata l'attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e anche al cambio dell'impegna con un'invita. Perché questo? Perché l'attività di ricerca e di coltivazione significa individuazione e prelievo di nuovi giacimenti, il che ad oggi non sono richiesti, ma un domani potrebbero essere richiesti per esigenze energetiche. È stato poi citato l'esempio di Casalmore, di Bordolano, nel punto 3 del dispositivo, ma mi sembra un po' forviante, anche perché questo è un impianto attivo, ma che non prevede ad oggi attività né di ricerca né di coltivazione e soprattutto di sovrappressione. Ricordo infine che, come si apprende dalla comunicazione di giunta del 20 marzo del 2014, l'assessorato è già intervenuto sul tema di sospensione dell'istruttoria di Sergnano e Ripalta, quindi per quanto riguarda l'attività di stoccaggio. e qui si riferiva soprattutto all'attività di sovrappressione. Quindi per tutto questo vuol dire che l'assessorato ha anticipato i tempi di queste richieste e quindi lo ringrazio per aver fatto questo tipo di attività e di azione. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Carra. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. A me questa mozione pare assolutamente una mozione in linea con quelli che sono i principi stabiliti dall'ultima relazione scientifica, che è la relazione icchese, la quale chiaramente dice non può essere provato che il sisma sia diretta conseguenza delle trivellazioni e dello stoccaggio, né può essere escluso. Anzi, in particolare per quanto riguarda un sito dell'Emilia si dice che in questo caso vi possono essere correlazioni, mentre per altri siti sono escluse. Effettivamente abbiamo una letteratura scientifica che non è fantascientifica sulla correlazione tra l'attività umana di trivellazione ed estrazione e i sismi, tant'è che nella letteratura scientifica i terremoti antropogemici nei quali l'attività umana ha avuto un qualche ruolo nel portare il sistema al punto di rottura vengono distinti in terremoti indotti, nei quali uno sforzo esterno è sufficientemente grande da produrre un evento sismico in una regione che non era necessariamente una regione sismica in senso geologico, e terremoti innescati, per i quali una piccola perturbazione generata dall'attività umana è sufficiente a spostare il sistema tettonico da uno stato quasi critico a uno stato instabile, che è la condizione necessaria perché poi avvenga il sisma. La Commissione Ichese è evidenziata testualmente come la sismicità indotta e innescata dalle attività umane sia un campo di studi in rapido sviluppo, ma lo stato attuale delle conoscenze, in particolare la mancanza di esperienza in Italia, perché all'estero queste esperienze ci sono, non permette l'elaborazione di protocolli di azione prontamente disponibili, quindi d'accordo lo sviluppo delle conoscenze, gli approfondimenti e quant'altro. A mio modo di vedere sarebbe necessario, se volessimo fare le cose per bene, vietare le attività di estrazione o stoccaggio di idrocarburi nelle aree non idonee, a partire da quelle a rischio, subsidenza o colpite da gravi eventi sismici. E poi per quanto riguarda anche la necessità, pare che le riserve che abbiamo di gas e petrolio possano sostentare per un anno la nostra nazione, dai dati che ci sono stati forniti. Non vedo la necessità di continuare un'attività di ricerca o di stoccaggio nella pianura padana dopo che è stata colpita dai recenti eventi. Io forse ho una deformazione, sapete, perché io più volte sono corso fuori di casa quando c'era il sisma, quindi non vorrei mai che ci si prendesse la responsabilità di dire chi se ne frega tanto riguarda un territorio in particolare e quindi della salute e della possibilità che in quel territorio vi possono essere esempi di questo tipo, effettivamente correlati all'attività umana, forse non sia assolutamente necessario per tutti quanti. Io posso capire anche questo discorso, tutta via, ritengo che per quanto riguarda la mozione, quantomeno il sospendere le attività non soltanto di stoccaggio ma anche di trivellazione, ricerca ed eventuale estrazione possa essere quantomeno per un periodo di tempo tale da permetterci di avere delle sicurezze maggiori o meglio da escludere la correlazione, cosa che finora non è avvenuta, possa essere un passaggio importante che con questa mozione il consiglio propone e che l'assessore in forza di questa mozione può poi far suo e può vedere. So benissimo e apprezzo il fatto che vi sia stata la prima sospensione, io chiederei che fosse complessiva, quello mi pare il punto più rilevante della mozione, anche perché non sono poi tante le concessioni. Mi rendo conto, so che è materia statale, so che non è la regione che possa dire io autorizzo o io revoco, però qui parliamo di un principio di precauzione, quindi anche un convincimento nei confronti del Governo che potrebbe farlo suo, agli esiti anche della relazione chiese che è stata presentata e dei successivi approfondimenti, in modo tale da far sì che per un periodo di tempo si possa monitorare, fare quelle esperienze che in Italia mancano, perché mai finora era stata oggetto di questo tipo di ricerche o mai queste correlazioni erano state provate e lo sono state soltanto dopo una serie di eventi internazionali, al fine di tutelare al meglio possibile quella che è la nostra regione. Credo che anche se una, due, cinque concessioni di trivellazione o di ricerca possano essere congelate, non credo che queste grosse società abbiano dei problemi tali per cui rischino di andare in fallimento. Conseguentemente sarebbe anche opportuno, oltretutto, e questo è un altro convincimento che va nello spirito della mozione, anche se non è contenuto, non direbbe che anche questo non è materia regionale, ma nel complessivo potrebbe entrarci, se diamo un mandato all'assessore regionale, che le royalties, che sono tra le più basse in assoluto italiane, fossero commisurate almeno quelle degli altri Paesi. Grazie, consigliere Carran. Non ho altri iscritti nella discussione generale. Chiederei al consigliere Fiasconaro se accetta le modifiche proposte dalla consigliera Maroni. Grazie Presidente. Ma in realtà, come diceva il consigliere Carla, che tra l'altro è firmatario della mozione, il punto 3 è il punto fondamentale. E fondamentale, secondo me e secondo noi, è appunto sospendere non solo le attività di stoccaggio, ma anche le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Quindi l'emendamento che va nella direzione di escludere le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi non lo ritengo accettabile. L'altro, al punto 4, il fatto di aggiungere ove possibile, anche qui si tratta di dare un messaggio chiaro, forte, anche a livello ministeriale. Perché sicuramente Regione Lombardia e i titoli minerari vengono rilasciati dal Ministero. Quindi la materia è statale. Però Regione Lombardia può intervenire e fornisce dei pareri e partecipa nelle varie fasi dell'Iter. Quindi il fatto di dire con un provvedimento di Regione Lombardia che sia necessario adottare le raccomandazioni della Commissione chiese già da adesso, senza attendere le linee guida, partecipando poi anche, se possibile, a redigere queste linee guida, secondo me e secondo noi è importante. Ripeto, si parla di problematiche sul territorio e che riguardano questioni molto delicate, come sono l'equilibrio sismico del territorio. Quindi entrambi gli emendamenti mi sentirei di non accettarli. In particolare l'emendamento al punto 3, perché ritengo che sia fondamentale non solo le attività di stoccaggio, ma anche le attività di ricerca e di coltivazione di Dero Carburgo. Per cui non accetta le modifiche. Prego, Assessore Terzi. Sì, grazie. Beh, allora, io direi che prima di entrare nel vivo di quella che è la mozione, quindi di quelli che sono le quattro richieste, insomma, o i quattro emendamenti della mozione, direi che bisogna, si debba fare un po' di chiarezza. Prima di tutto, una riflessione generale. La competenza è nazionale perché la possibilità e l'ipotesi di stoccare gas per quelle che possono essere le eventuali situazioni di emergenza o di mancanta fornitura di gas dall'estero attengono a quella che è la programmazione ovviamente nazionale, quindi necessariamente la competenza è nazionale. Vi ricordo anche, ma così come è precisato nella comunicazione che non è una DGR del 20 marzo del 2014, che in Lombardia sta allocato il 40% della capacità nazionale di stoccaggio del gas naturale. Quindi di fatto quasi metà di tutta la capacità nazionale è prevista quantomeno in quello che è il territorio lombardo, concentrato ovviamente nella fascia sud del territorio lombardo. Le autorizzazioni, come dicevamo, sono ovviamente del Governo, è richiesta l'intesa della Regione, il che vuol dire che la mancata intesa ovviamente non può rendere possibile il rilascio dell'autorizzazione, l'eventuale intesa non porta automaticamente al rilascio dell'autorizzazione. Dobbiamo però considerare che l'Italia notoriamente non è autosufficiente quando si tratta di produzione di energia sotto qualsiasi punto di vista e di qualsiasi tipo di energia stiamo parlando. Noi siamo completamente dipendenti dalla Russia piuttosto che dall'Algeria, dalla Libia o dai paesi del nord Europa e dobbiamo necessariamente, la crisi in Ucraina ci ha fatto ovviamente fare qualche riflessione in più rispetto a questa dipendenza ma di fatto dobbiamo considerare che non possiamo evitare di realizzare queste riserve che dovrebbero intervenire nel momento in cui appunto uno di questi fornitori che ci forniscono, ribadisco quasi la totalità del gas che utilizziamo appunto dovesse in qualche modo interrompere la fornitura e questo è un elemento che vi chiedo assolutamente di considerare ed è quello che sta alla base ovviamente delle valutazioni fatte dal governo. In regione Lombardia gli impianti di stoccaggio sono tre, sono quelli di Settala, di Sergnano e di Ripalta e sono già operativi e ovviamente quello che abbiamo inteso fare con la comunicazione del 20 marzo del 2014 era proprio quello di intervenire su quella che è la situazione che abbiamo ritenuto più complessa e più meritevole di attenzione che è quella relativa allo stoccaggio del gas. In effetti sino agli eventi che avete citato nessuno onestamente si era preoccupato di quanto la presenza di stoccaggi e di appunto di questo tipo di impianti potesse interagire con eventi sismici. Di fatto purtroppo come talvolta capita è dovuto succedere quello che è successo e da lì ovviamente l'attenzione ma soprattutto gli approfondimenti si sono svolti. Un'altra precisazione che mi sottopongono gli uffici in regione Lombardia la produzione di idrocarburi liquidi di fatto non esiste, quella degli idrocarburi gassosi è pressoché inesistente quindi anche per questo l'attenzione di tutta la DG Ambiente si è concentrata soprattutto sull'attività di stoccaggio che risulta essere quella effettivamente attenzionata poiché giustamente attenzionata e con tutta una serie di questioni da approfondire. Per quanto riguarda il rapporto della Commissione Ichese e appunto la famosa comunicazione che è data 20 marzo 2014. Anche noi avevamo notizia che da un giorno all'altro a partire da... Scusi Assessore, prego i consiglieri che sono rientrati a sedersi e fare silenzio, se no riescono, grazie. Perdoni. Grazie. Dicevo anche noi avevamo notizia intorno al mese di febbraio appunto dell'imminente pubblicazione di questo rapporto. Abbiamo in effetti atteso fino a che ci sembrava doveroso appunto intervenire con un atto formale, l'abbiamo fatto il 20 di marzo in attesa, sempre però in attesa che ci arrivassero notizie non solo ufficiali ma anche ufficiose. A quel punto poco dopo abbiamo scoperto appunto, abbiamo letto anche noi dai giornali che il rapporto a quanto pare fosse già da qualche tempo nelle mani del commissario Errani. Arrivando quindi al primo punto della sua mozione, le dico che la Regione Lombardia appunto è venuta a conoscenza del rapporto ichese accedendo al sito della Regione Emilia-Romagna e dopo che dalla stampa avevamo appreso appunto che era stato pubblicato o che anzi in qualche modo era già pervenuto a quella che era la direzione della Regione Emilia-Romagna. In precedenza appunto avevamo ricevuto informazioni da parte del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero del Mise circa lo stato dei lavori della Commissione ichese senza però che ovviamente ci fosse stato anticipato alcunché in ordine al contenuto del rapporto. Ora in ordine al contenuto del rapporto immagino che tutti coloro che insomma così come i funzionari della DG Ambiente di Regione Lombardia hanno avuto modo di prenderne atto, di leggerlo e di approfondirlo. Tutti sappiamo purtroppo che la relazione e il rapporto della Commissione ichese non è stato così risolutivo e direi preciso rispetto a quello che erano in particolare le attese. Sostanzialmente c'erano grandi attese rispetto a questo lavoro e a questo approfondimento. Ci si aspettava che dopo tanto lavoro la Commissione ci potesse dire, potesse affermare con certezza se lo stoccaggio o determinati tipi di attività sono in stretta e diretta correlazione con eventi sismici questo non c'è stato. Come dicevate, come hanno detto i consiglieri prima di me, di fatto tutti gli interrogativi sono rimasti aperti, non si può escludere, non si può nemmeno affermare. Questo ovviamente crea non pochi problemi o meglio non ha chiarito quelli che erano i problemi o i dubbi che erano stati avanzati e che avevano portato alla Commissione ichese. Per quanto riguarda il punto numero due come giustamente affermato nella mozione risulta istituito un gruppo di lavoro scientifico presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione di linee guida per la corretta applicazione delle raccomandazioni ichese. Questo perché? Perché le raccomandazioni oltre a non essere esaustive o in qualche modo certe nel senso di dire sì o no rispetto a quelli che erano gli interrogativi che sono stati posti alla Commissione medesima sono del tutto generiche e per essere applicate necessitano di sostanziali approfondimenti da parte degli studiosi del settore. In particolare poi è necessario fare in modo, trovare sostanzialmente delle norme soprattutto tecniche che possono essere replicate in un territorio diverso da quello emiliano che è l'oggetto ovviamente dello studio della Commissione ichese. Le linee guida saranno presentate dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e Commissione appunto dello stesso Ministero a cui competono i pareri e le determinazioni in materia di ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo. Di questa Commissione fa già parte l'ingegner Savoca della DG Ambiente come rappresentante del coordinamento delle regioni. Quindi ovviamente non ci sono problemi ed anzi un eventuale autoinvito, se così si può definire, della Regione Lombardia a questo gruppo di lavoro che però è esclusivamente scientifico ed è gestito, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Una piccola precisazione consigliere, per quanto ci risulta la Regione Emilia-Romagna non partecipa a questo gruppo di lavoro, a questo gruppo di lavoro scientifico, ha un suo gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello appunto di approfondire i risultati del rapporto ichese e soprattutto di tradurre in pratica e in concretezza quelle che sono appunto le raccomandazioni che come le dicevo purtroppo risultano troppo generiche. Per quanto riguarda il punto 3, così come per il punto 4, io mi sento di insistere con quelle che sono appunto le richieste di bondifica che ha avanzato il consigliere Magoni per il semplice fatto che per tutti i motivi che le ho poc'anzi spiegato diventa per noi difficile pensare di intervenire su quelle che sono appunto tutte le attività diverse dallo stoccaggio. Sullo stoccaggio abbiamo inteso, mi pareva un argomento interessante ma solo quando probabilmente lo esplicano i consiglieri, quando probabilmente le risposte vengono date l'attenzione cala. Poi non veniteci a dire però che non prestiamo attenzione a quello che stiamo facendo. Dicevo, non è possibile per noi intervenire su situazioni diverse dallo stoccaggio. Relativamente allo stoccaggio siamo intervenuti prima ancora che ci fossero pervenute le risultanze della commissia del rapporto ichese, proprio perché attenzionati proprio perché riteniamo che in via precauzionale in questo senso si dovesse intervenire. Per quanto riguarda la ricerca e la coltivazione non risultano allo Stato, ai funzionari della DG Ambiente, elementi tali che possano in alcun modo far soggere dei dubbi tali e tanti quanti quelli dello stoccaggio. Di conseguenza così come formulato il terzo punto per noi come assessorato diventerebbe difficilmente accoglibile per cui ne chiediamo o lo stralcio oppure una riscrizione con l'omissione ovviamente o con l'esclusione delle attività di ricerca e di coltivazione. Ribadisco non ci sono elementi tecnici che allo Stato possano portare in alcun modo a sostenere questa tesi. La stessa cosa per quanto riguarda il punto 4 e le raccomandazioni, poiché allo Stato attuale non è possibile recepire le raccomandazioni della commissione ichese poiché troppo generiche. Sono raccomandazioni generiche che non possono essere né imposte alle future, alle stanze pendenti né tantomeno e ancor meno a quelle che sono gli impianti già autorizzati. Senza dubbio un discorso del genere verrà fatto quando invece saranno emanate le linee guida che proverranno da questo gruppo di lavoro scientifico che c'è presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Un piccolo inciso, vi ricordo che quando si parla di ricerca e prospezione geofisica non vuol dire necessariamente parlare di perforazioni e che soprattutto, contrariamente a quanto talvolta viene affermato anche da qualche esponente di questo Consiglio regionale, in Regione Lombardia è vietata la pratica del fracking, quindi quelle che sono le attività più invasive non sono assolutamente escluse, oltre al fatto che ogni singolo step, ogni singolo passo dell'attività di ricerca è sottoposto ad una valutazione di impatto ambientale, quindi ad una procedura piuttosto serrata, piuttosto stringente e ogni passo ulteriore, quindi al di là di quello che è una ricerca a livello superficiale deve far ripartire tutta un'altra volta la procedura. Infine stiamo lavorando, comunque parallelamente andiamo avanti, per quello che è invece la quantificazione e la determinazione di quelle che sono in particolare le compensazioni anche economiche per gli enti ovviamente, per quanto riguarda gli eventuali insediamenti e gli eventuali invece impianti di questo tipo. Grazie Assessore, apro le iscrizioni per le dichiarazioni di voto, ricordo che il Consigliere Fiasconaro che si è comunque iscritto non ha fino ad ora accettato le proposte di modifica. Prego Consigliere. Grazie Presidente. Allora sì, non ribadisco, non accetto le proposte di modifica dei punti 3 e 4, quindi li lascerai così come sono scritti, ribadendo il fatto che per il punto 3 è importante secondo noi la sospensione, cioè attivarsi presso il Ministero per chiedere la sospensione dell'attività di stoccaggio e di ricerca e coltivazione di idrocarburi e per il punto 4 che le raccomandazioni secondo noi, dando anche un segnale politico forte, potrebbero essere applicate, si potrebbe cercare di applicarle anche in questo periodo di tempo che non si sa quanto lungo sarà, che ci separa dall'elaborazione delle linee guida. Chiedo subito, prima di dimenticarmi, la votazione per appello nominale a nome mio e della Consigliera Macchi, Nanni, Carcano, Violi e Buffagni e approfitto per chiedere anche la votazione per parti separate, quindi votare separato ogni punto, posto che il punto numero 1 lo riterrei già chiarito dalle parole dell'assessore. Detto questo approfitto per puntualizzare alcune questioni. Si è detto che non esiste una posizione univoca sul tema riferiti al fatto che si possano generare o meno sismi. È vero, però rendiamoci conto che la Lombardia è un territorio fortemente urbanizzato con attività industriali di qualsiasi tipo anche a rischio di incidente rilevante e che gli stessi impianti di stoccaggio sono attività a rischio di incidente rilevante. E ricordiamoci che questo tipo di attività, per esempio in Olanda, prima si citavano i paesi esteri, quindi attività di stoccaggio e ricerche idrocarburi, vengono concesse a distanze minime di 100 km dai centri abitati. Qui invece se noi puntiamo il compasso su alcuni centri in cui avvengono attività di stoccaggio e di ricerche idrocarburi, vediamo che le distanze sono molto minori, per usare un eufemismo, sono veramente minori anche perché è chiaro dalla geografia della regione Lombardia. Tra l'altro si diceva che si vuole focalizzare l'attenzione sullo stoccaggio. Allora, in realtà sì, sono state sospese due procedure per la sovrappressione, però tutto il resto rimane attivo e se si considera lo stoccaggio un'attività comunque critica, ricordo che gli impianti di stoccaggio attualmente attivi, che sono quattro a quanto mi risulta e non tre perché c'è anche il Brugherio, oltre a Settala, a Sergnano e Ripalta, questi impianti non hanno, sono privi dei piani di emergenza esterna previsti dalla direttiva Seveso perché gli impianti sono impianti classificati come a rischio di incidente rilevante. Questo è una questione che è stata sollevata tra l'altro settimana scorsa in audizioni in Commissione Ambiente da parte di alcuni comitati che da anni stanno seguendo queste questioni e credo che anche su questo prossimamente, ma con un po' di celerità, debba essere fatta chiarezza. Sulla questione di Bordolano, che citava il consigliere Elena, a quanto mi risulta lo stoccaggio di Bordolano non è attivo e infatti anche nella delibera viene classificato come attivo, ma l'impianto di stoccaggio di Bordolano a quanto risulta è in fase di attivazione, ma non è attivo. Quindi anche qui bisogna chiarire soprattutto ai cittadini se si tratta di un impianto attivo o se non è ancora attivo, a quanto risulta non è attivo. Si parlava di situazioni di emergenza, cioè che soprattutto gli stoccaggi ma anche la ricerca di idrocarburi serve per approvvigionare risorse, per differenziare gli approvvigionamenti eccetera e per sostenere le situazioni di emergenza. Bene, ricordiamoci che lo stoccaggio e anche la ricerca si parla di milioni di metri cubi di gas nella ricerca e di poche miliardi di metri cubi di gas per lo stoccaggio che servirebbero per sostenere pochi mesi, forse un mese solo, di crisi energetica. Quindi abbiamo anche la misura di quello che diciamo. Tra l'altro si potrebbe investire, forse dico una banalità ma non credo, in efficientamento energetico per arrivare a risparmiare sempre più energia e per arrivare ad avere sempre meno bisogno di questo tipo di risorse. E in più bisognerebbe differenziare sicuramente gli approvvigionamenti, cosa che non è stata fatta perché con la strategia energetica nazionale che è quella che ha citato l'assessore Terzi che tra l'altro prevede che la Lombardia diventi un hub del gas ma non solo per interessi italiani ma per interessi soprattutto europei, un hub del gas per il sud-est Europa. Con la strategia energetica nazionale e con i ministri dei governi precedenti si sono sottoscritti dei contratti, soprattutto con la Russia, che impongono l'approvvigionamento e l'acquisto di determinati miliardi di metri cubi di gas negli anni. Quindi il fatto che adesso si debbano tutti stoccare qua in Lombardia presuppone forse anche il fatto che i nostri politici, soprattutto a livello nazionale, non sono stati troppo lungimiranti e hanno valutato interessi personali piuttosto che altri interessi. Tra l'altro per esempio si può dire che sugli stoccaggi ballerebbero 10 miliardi e mezzo di metri cubi di gas da piazzare. Consigliere, è una dichiarazione di voto e lei già ha sporato anche i tempi. Nel frattempo però io invito lei a chiudere e invito anche l'Aula a fare silenzio perché è impensabile continuare così. Dicevo, chiudo, dicendo che sugli stoccaggi risulterebbero 10 miliardi e mezzo di metri cubi di gas da piazzare da qui al 2021 che sono frutto di un contratto sottoscritto con Gazprom, quindi con i russi, da Sinergie Italiane, una società che è fallita ma che era partecipata da molte utility anche lombarde del nord Italia. Quindi utility, società che investono i nostri soldi dei cittadini. Con questo chiudo ribadendo il voto favorevole alla mozione così com'è e la richiesta di votazione per parti separate. Consigliere, dato che poi i colleghi devono votare, mi specifica qual è la sua richiesta di voto per parti separate. Prima c'è una richiesta comunque a cui lei non ha fatto riferimento di trasformare impegna con invita, per cui sarebbe interessante capire se è disponibile a questa modifica. E poi il voto per parti separate che cosa vuol dire? Votare insieme il dispositivo, il primo e il secondo punto e invece in maniera separata il terzo e il quarto? Direi di sì, posto che il primo punto, ripeto, può essere considerato come esaurito da quello che ha detto l'assessore. Lo mettiamo ai voti comunque, è lei il firmatario. Impegna invita? Io va bene invita, per il secondo punto va bene, accettiamo l'invita. Lo chiedo perché poi i colleghi devono fare dichiarazioni di voto in base alle sue dichiarazioni. Prego, consigliere Carra. Sì, grazie Presidente, brevemente. Io ho apprezzato la relazione dell'assessore, è stata una relazione che comunque è stata motivata. Quello che chiedevamo e che continuiamo a chiedere con questa mozione e per questo il gruppo del Partito Democratico voterà sì a questa mozione, era anche un atto di coraggio. Perché comprendo che i funzionari della direzione ambiente dicano sicuramente sullo stoccaggio vi è una maggiore pericolosità, quindi procediamo a sospendere quello. Sullo resto siamo convinti che ve ne è meno. Io non ne sono così convinto. Sono convinto anche che l'istituzione faccia seriamente la valutazione di impatto ambientale, faccia tutti i controlli. Ma di queste società che vanno a estrarre, fanno ricerca ed estrazione di idrocarburi, anche lì sarà un limite mio, ma mi fido poco. Non mi sembrano società che siano effettivamente attente a quelle che sono le esigenze ambientali, né attente a quelle che sono le esigenze delle popolazioni che vivono in quegli ambienti. Conseguentemente la sfida era di portare e di convincere anche il Governo, perché l'avevo anticipato e lei correttamente, Assessore, ha portato avanti questo discorso. Sappiamo quali sono le competenze della Regione in questo campo e quali sono le competenze del Governo. Portare questa problematica in maniera molto forte, anche perché il nostro territorio effettivamente è stato appena adesso interessato a un evento sismico. Io mi auguro che per 500 anni non succeda più, però visto che è successo, ancora non sappiamo com'è. Correttamente anche lei ha ribadito che la Commissione con i chiese, con quella relazione, non ha chiarito. Noi avremmo voluto che dicesse sì, c'è una correlazione, oppure, meglio ancora, no, non c'è una correlazione, saremmo stati più felici. Ma quando dicono che non si può provare, né si può escludere, creano preoccupazione, chiaramente in noi, e quindi se non si può escludere, è chiaro che il nostro voto sarà favorevole perché chiediamo che vengano messe in atto tutte le misure necessarie. Non ho altri scritti in dichiarazione di voto. Consigliera Magoni, prego. Grazie Presidente. Vorrei ricordare semplicemente al Consigliere Carrà che al Governo ci sono loro e quindi sarebbe opportuno che il Ministro intervenissimo in quanto la questione è statale. La Gruppo Maroni voterà a favore i punti 1 e 2 e contro il 3 e 4. Grazie. Non ho altri scritti in dichiarazione di voto. Procediamo alla votazione. Le votazioni saranno due. Prego i consiglieri di ascoltare perché dobbiamo procedere per una votazione così come è stato chiesto per parti separate. La prima votazione riguarderà il voto del dispositivo, la modifica che è stata accettata di trasformare impegna con invita e i primi due punti, il punto 1 e 2 del dispositivo della parte esecutiva. Per cui è stata chiesta la votazione per appello nominale. Apriamo la votazione per i primi due punti della mozione con la modifica di impegna e di invita. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Favorevoli 56, 0 no, 0 astenuti. Ora procediamo alla seconda votazione per cui ai punti 3 e 4 del dispositivo. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Favorevoli 20, no 38, 0 astenuti. Per cui la mozione è approvata, la mozione 240, solo nei due primi punti.